Adesso parliamo invece dello storico accordo tra l'ente carnevalesca e i carristi. Per tutti i dettagli ci colleghiamo con Lino Balestra dalla sede dei carri del carnevale. Buonasera Lino e buonasera anche ai tuoi ospiti. Buonasera Marco e buonasera ai telespettatori a casa. Siamo qui dove effettivamente si creano i carri con le loro magie e con i loro movimenti. Ti parlavi di un accordo storico, un accordo importante, quello che è stato siglato pochi giorni fa con i carristi e la carnevalesca che è riuscita a finalmente suggellare un accordo di massima che porterà tre carri nuovi a percorrere Viale Gramsci, forse un quarto, due carri di seconda categoria, qui alle nostre spalle ci sono coloro che li realizzeranno. Soddisfazione? Posso intuire dal sorriso. Eh beh sì, tanta soddisfazione e questa soddisfazione la dobbiamo veramente ai maestri carristi che si sono messi a tavolino con noi. Abbiamo insieme trovato una soluzione anche con un budget che è più limitato di quello che pensavamo però poi se nei progetti ci si crede le soluzioni si trovano. Quindi io li ringrazio veramente tutti di cuore perché così riusciremo a dare a Fano dei nuovi carri e un nuovo carnevale. Bene, allora Alfredo, era un'idea bella, progettuale, ambiziosa. La partenza di questa prima vostra esperienza è stata così, però insomma si può andare avanti con rinnovata fiducia. Non era, eh, eh sì, ce la mettiamo tutta come abbiamo promesso sul suggerimento che abbiamo chiesto anche alla cittadinanza. Quindi cerchiamo di rispettare questo impegno di riappropriazione del carnevale da parte della città di Fano. E appunto, come diceva Flora, è un grosso impegno la parte dei costruttori. Adesso dopo la prima fase di progettazione stanno smontando e rimontando le strutture per iniziare in modo operativo. E insomma, contemporaneamente a una serie di attività che stiamo facendo anche sul territorio per preparare, diciamo, anche un po' il clima, il terreno, con iniziative collaterali che abbiamo già cominciato e che faremo in modo particolare con la collaborazione anche delle articolazioni della città, con le scuole. Adesso magari Franca spiegherà meglio. Sì, allora, io ho cercato di estorcere qualche cosa da loro, ma sono peggio dei partigiani, non dicono nulla. Io volevo vedere qualche bozzetto, qualche cosa, ma li difendono con le unghie e con i denti. Però, insomma, un impegno anche. Certo, ci riserviamo della suspense, la sorpresa. Non c'è modo di sapere. Ovviamente. Quello che voglio sottolineare è il coinvolgimento che abbiamo fortemente cercato, soprattutto con le scuole, perché noi pensiamo che il nostro progetto educativo debba appunto partire dalle scuole. e quindi stiamo proprio avendo il consenso di molte scuole, a partire dalle elementari alle superiori, in particolare il liceo artistico di Fano, che sicuramente farà una mascherata per partecipare al Carnevale di Fano. E poi l'Olivetti, tutto il Polo 3, insomma, che parteciperà comunque con gli eventi collaterali, che ha già partecipato al convegno sul turismo e per il prossimo convegno che faremo sul lavoro ci sarà ancora la partecipazione delle scuole. Bene, le scuole parte attiva, i ragazzi, ma insomma la fucina di tutto il Carnevale è qui e qui albergano per diversi mesi i carristi. Allora, se mi consentite altri due minuti, due battute con coloro che creeranno la magia del Carnevale, la facciamo. Allora, siete pronti? Vi state, insomma... Siamo pronti, dai, finalmente siamo partiti, oggi abbiamo smontato i carri, domani iniziamo la costruzione di un giovane carri. Qual è l'idea, la filosofia, l'idea di... Vediamo, si può dire... Non c'è niente da fare. 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 Ecco, c'è la Presidente che sorveglia. Adesso io, con Rubio Mariotti, confido in lei. Siccome sono troppo buono, svelerò completamente il tema del mio carro. No, assolutamente non posso. Ho qui di fianco il comitato direttivo della Carnevalesca, Vice Presidenti, Presidente, in persona non posso assolutamente muovermi. Svelare. No, assolutamente. Devo solo dire, confermando le parole della Presidente, che abbiamo finalmente trovato una buona partecipazione, una collaborazione finalmente aperta, disponibile, un clima completamente diverso e questo ci ha favorito nel raggiungimento di un accordo che ancora una volta ci vede in un grosso sacrificio che però per il Carnevale riusciremo anche quest'anno a fare le magie. A fare le magie. Loro l'hanno assicurato che faranno delle magie. Il tema però, almeno si può sapere, la creatività medinita. Lavorate un po' di fantasia e siate pazienti, aspettate a febbraio e vedremo, ma io cercherò di estorcere qualcosa, insomma, ritorneremo sul tema Carnevale.